Ciao, benvenuti sul mio canale YouTube. In questo video vorrei parlarvi di quella che è la mia morning routine e di quanto è importante avere, costruirsi e organizzarsi la propria morning routine. Questa mattina la mia sveglia è suonata alle ore 7. Dopo essere andata al bagno mi sono bevuta il mio bel bicchiere d'acqua, ho srotolato il materassino da yoga, ho praticato più o meno 10 minuti, successivamente ho fatto 10 minuti di meditazione guidata seguendo un'app che ho scaricato qualche mese fa con cui mi trovo molto bene. Dopo la meditazione ho fatto 3 sessioni di respirazione seguendo il metodo Wim Hof e sempre seguendo il metodo Wim Hof ho fatto 30 secondi di doccia ghiacciata. Ho preparato poi il caffè, la colazione e mentre facevo colazione ho compilato il mio diario della gratitudine. Dopo avervi detto qual è la mia morning routine e sicuramente presto ne farò anche un video. Vorrei condividere con voi come vi ho già detto in questo video l'importanza dell'avere e del crearsi la propria morning routine. C'è un detto che mi piace molto in inglese che dice How you start the day determines how you spend the day. Quindi come inizi la giornata e come andrà la giornata e come passerai la giornata. Quindi ovviamente qual è il peggior modo per iniziare la giornata? Svegliarsi, uscire dal letto, andare in bagno, prendere un caffè, fare colazione o forse nemmeno sbattere la porta e correre fuori di casa per andare al lavoro o per fare le proprie cose. Ovviamente non è iniziare la giornata in un modo positivo. Quindi la morning routine vuol dire mettere la sveglia 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti prima per trovare del tempo da dedicare al proprio benessere psicofisico, psicofisico, quindi per il corpo e per la mente. Significa iniziare la giornata col giusto passo, in un mood positivo e soprattutto la morning routine significa iniziare la giornata con un'intenzione, con un'intenzione positiva. Ovviamente le intenzioni sono importantissime, sono ciò che ci muove, ciò che ci spinge a fare le cose e come facciamo le cose. Quindi ovviamente l'intenzione che mettiamo nella morning routine ce la portiamo dietro tutto il giorno. Saremo più energici, saremo più focalizzati, miglioreranno le nostre performance, il nostro rendimento, sia al lavoro ma non solo, nelle relazioni e proprio nell'affrontare la giornata stessa. Quindi cerca di capire quale potrebbe essere la tua morning routine, quale potrebbe essere la tua intenzione nella morning routine. L'intenzione può essere prendersi cura di te, di corpo e mente, per partire alla grande con più carica, più energia e positività. L'intenzione può essere mettere al primo posto il tuo benessere che sembra scontato ma così tante persone hanno smesso di mettersi al primo posto. La morning routine è la tua morning routine e significa metterti al primo posto. Ora non ti resta che capire e trovare quella che potrebbe essere la tua morning routine, aspettare il video della mia morning routine, ma questo video è la mia giornata continua. Ciao! Ciao!